Troppo spesso, troppo spesso succedono, grosse, grosse, una più dell'altra. Ecco, ha sentito qualcosa? È sentito un gran botto, era dentro, faceva da mangiare, questo era un altro incidente, sono uscita, già era tutto per terra, tutto pieno di sangue, si lamentava, la spalla era tutto dietro così, era un macello, insomma, guarda, una gran brutta cosa. Siete un po' preoccupati, voi siete a ridosso qui della curva? Siamo preoccupati, in un'altra ne capita qualcuna, noi curiamo sempre, ma da bere non si può dare, cosa gli diamo, non sappiamo cosa fare, però fa brutto un bel po'. Li vedete spesso, questi chioppi qui? Purtroppo sì, purtroppo sì, ci sono tanti incroci pericolosi, ci sono tanti incroci pericolosi. Questo incrocio ormai è una croce, più che un incrocio, però non si risolve, ma dovrebbe essere anche una cosa facile, ma non c'è verso.